ma questa è la destra ciao a tutti buongiorno buongiorno bene partiamo subito con la presentazione allora io sono valentina io sono annalisa e noi siamo le and your sisters abbiamo ricevuto dei messaggi dove ci chiedevano se possibilmente possiamo far durare un po di meno i video e quindi lo faremo lo faremo scusate non tutti gli italiani ma noi in particolare quando parliamo di qualcosa che ci piace tendiamo a parlare un po troppo quindi vi chiediamo scusa se questo vi ha dato magari fastidio o se vi ha annoiato esatto quindi vi chiediamo scusa cercheremo di farle durare un po meno ci concentreremo solo sul video diremo se ci è piaciuto e poi ci salutiamo benissimo intanto diciamo che cosa vediamo oggi sorella oggi andremo a vedere un video che è stato richiesto da diverse settimane però abbiamo avuto dei vari problemi e quindi non siamo riusciti a farla subito quindi chiedo scusa se non l'abbiamo fatto subito da settimane che ce l'hanno chiesto e non una ma ho contato 5-6 persone che ce l'hanno chiesto quindi proprio lo volevano e andremo a fare noi chiediamo sempre scusa per la pronuncia in indiano anzi se potete aiutarci in qualche modo tramite i commenti a capire come pronunciarli perché noi vogliamo dirlo giusto andremo a fare Firekitsong sempre di Ritikroshan e Kang Rano scusate cercate di aiutarmi vogliamo dirlo giusto non vogliamo sbagliare e quindi andiamo a vedere questo video andiamo scendiamo la tastiera quindi Firekits 2 1 ok scusate allora abbiamo avuto un piccolo problema e questo è il bello della diretta esatto è partita la canzone ma non c'era il video era tutto nero quindi aspettate cercheremo di ricominciare vediamo magari è un problema del nostro computer perché ok parte ok scusate riproviamo di nuovo per l'ennesima volta ci riproviamo di nuovo 3 2 1 e via ok adesso si era tutto schermo nero prima quindi non capivamo ok ci si prepara a ballare qui rosso è lui è lui è venuto è lui no è va ah ci sono altri tra lui non vorrei dire forse è preso la scena di un film è preso da un film o è video musicale che bell'effetto che brava lei e l'ha sfidato e io faccio una spaccata l'ha sfidato secondo me è preso da un film è sembra la scena di un film sensual dance battle brava lei porca miseria molto flessibile lei tocca a te è capace a fare break dance anche wow non è facile uh bella lei bionda sembra Charlie Chaplin Charlie Chaplin dance standing ovation che brava lei riesce a toccarsi la testa col piede è bravissimo molto flessibile ma lui non cantava io immaginavo cantasse invece chi cantava probabilmente non era lui in sottofondo ma era un altro secondo me era scena di un film lui balla da solo questo film si sfidava con altre persone in discoteca secondo me è preso da un film secondo me molto bravo molto bravo penso ce l'abbiano chiesto per farci vedere comunque di nuovo le abilità di lui ma quello lo sapevamo già ce ne siamo già accorti che comunque balla veramente benissimo molto 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 bravo davvero bravo voglia mi è molto piaciuto davvero sì I like it so stiamo molto brevi come abbiamo detto e salutiamo già tanto abbiamo già detto cosa pensiamo sì 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 vi ringraziamo continuate a seguirci mi raccomando non abbandonateci stay ciao bye bye